E' stato per 41 anni il ristorante dei VIP di Arezzo, chiuso dal 2015, negli ultimi giorni è diventato teatro di furti e tentati furti, l'ultimo ad opera di giovanissimi. In manette sono finiti tre giovanissimi, un'altra ragazza minorenne è stata invece denunciata a scoprire e fermare la banda di baby vandali, la polizia, gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura si sono insospettiti per la presenza di un'auto parcheggiata nei pressi del ristorante. Dentro c'erano quattro giovani che si erano introdotti all'interno della struttura rompendo una porta in vetro a colpi di bastone, avevano già compiuto all'interno diversi danneggiamenti. Non avendo trovato molto da rubare, avevano infatti scaricato la propria frustrazione rompendo piatti e bicchieri. Inoltre i giovani si erano accaniti su arredi mobili trovati completamente divelti e attrezzature di cucina. Gli uomini delle volanti hanno anche effettuato una perquisizione sull'auto utilizzata dal gruppo, all'interno ritrovato un palmare rubato da dentro il locale. Per questo motivo tre ragazzi maggiorenni di 20, 19 e 22 anni, si tratta di due italiani e di un ragazzo rumeno che si dente in Italia da tempo, sono stati arrestati per furto e danneggiamento aggravato, mentre la quindicenne è stata denunciata in stato di libertà. Sempre nei giorni scorsi, in un altro episodio, era stato sorpreso un settantenne mentre rubava quadri, lampadari ed altri oggetti all'interno del ristorante. Arrestato, era stato poi rimesso in libertà.